Musica Di accupere il pallone, parte velocissimo il tiro! Mamma mia che gol! Musica Questo è un campo qui in diretta dal Kennedy Stadium di Napoli, Super Cup, torneo S-Cup, che devono affrontarsi telecronistico contro l'Atletico Maraviglia, squadre liberate al centro del campo per il saluto ai propri tifosi. Telecronisti in completino verde-nero, casacca arancione per tutti come Maraviglia, l'abitro dell'incontro Gennaro Bonocore, che ora chiamassi i due capitani che sorteggeranno il tocco con la balla per il campo. Sosteggiati, palla e campo a Sardegna, c'è il saluto. Primo tempo tra telecronisti che vediamo far gol, risultato di 1-1 dopo uno svantaggio, dopo nemmeno 30 secondi all'inizio di gioco, subito il pareggio con Caruso. Quindi risultato di 1-1 tra Tresgo Maraviglia e telecronisti. Ora possiamo seguire tutto il primo tempo. Sardegna, c'è il saluto. 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 C'è il saluto.